Musica Bala ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo pack opening di FIFA ragazzi Abbiamo 197.000 crediti e ragazzi spendiamoli al meglio, spendiamoli al meglio perché ci sono usciti ragazzi i pacchettini, i nostri fantastici pacchettini Non mi chiedete perché uso l'inglese perché ho sbagliato a far partire il gioco e non c'avevo voglia di sistemare Ci sono i pacchetti promo da 25.000 e ne abbiamo ben 5 quindi sono 175.000 crediti, cerchiamo di finirli al meglio Primo pacchetto, il primo pacchetto ragazzi, blu, foot united, la scuola della settimana spero di aver fatto vedere Weydenfeller, Weydenfeller, Melo, Felipe Melo e tutti i contratti, i contratti sinceramente mi servono però C'è Mandzukic che mettiamo subito nella lista trasferimenti, beh pacchetto abbastanza schifoso però vabbè Non vi ho fatto vedere la scuola della settimana ragazzi, che è stra bella, non perché c'è Guadarella ma perché c'è Benzema e c'è anche Cabella o Cabellano Non so come si dice, c'è De Bruin, De Bruin oppure Mesutosi I Reisos, il grandissimo portiere che vi ha già da lì c'è Quindi ragazzi andiamo subito con il secondo pacchetto perché noi uno nero lo vogliamo Noi uno nero lo vogliamo e lo troveremo, lo troveremo, lo troveremo, me lo sento Secondo pacchetto, non c'è nessuno su, non posso dire c'è qualcuno su Food United, February 6, 8, 2015 FIFA Ultimate Team, uno nero, eccolo qui, è il nostro Jake, Jake Quaresma, oddio Quaresma ha 5 di skill ragazzi, fantastico, questo mi piace Terzo pacchetto, terzo e terzo ultimo pacchetto FIFA Ultimate Team, 25.000 crediti da buttare in questa maniera ragazzi Perché dico buttare? Perché troviamo di nuovo Jake Oddio, oddio, Dumbia della Roma rega, Dumbia della Roma vale un botto Vale un botto Dumbia della Roma Allora, listo mi trasformare con Power Price Ragazzi 60.000 di giocatori Dumbia della Roma ma noi lo terremo Perché proprio da oggi ragazzi se volete, se arriviamo almeno a 400 mi piace Faremo il Road to Division 1 con Dumbia davanti Con Dumbia davanti Ragazzi Dumbia della Roma fantastico, pacchetto incredibile, pacchetto incredibile, incredibile Quarto pacchetto, penultio pacchetto, vogliamo un nero, lo vogliamo uno nero, eccolo qui, è lui Mangala, vabbè però Mangala ci sta, Alessandrini, Alessandrini Eh, cazzo sai ma questo è tipo Giusto, come ho detto io è giusto, come ho detto io è giusto E troviamo ancora Kai Chedo ragazzi, questo game proprio sempre lo trovo, sempre Ultimo pacchetto ragazzi Rare Gold Pack 25.000 crediti Lo spacchettiamo così Lo spacchettiamo così Noi ci crediamo ad uno nero, ci crediamo ad uno nero Ci mettiamo ste cuffie in faccia Ci mettiamo ste cuffie in faccia Isco, Isco e tutti i doppioni C'è Dumbia della Roma un'altra volta E ci facciamo sto selfino No Ma dai l'ho buttato un lato nei trasferimenti Ma what the fuck Ma dai ma che sfiga, ma porca troca Comunque sono 60.000 crediti che ci portiamo appresso Cesni qui li mettiamo tutti nella lista trasferimenti Penso che si faccia con Y Infatti E ragazzi Voglio che arriviamo a 50.000 crediti Perché sarà un pacco opening di 550.000 Vabbè avete capito più o meno quello che volevo dire Quindi ragazzi Abbiamo ancora qualche pacchettino da scartare Almeno tre Tre pacchettini da scartare Vediamo in questo Messi Lo vogliamo uno nero Lo vogliamo E noi ce lo troveremo No dai Raffa Lorenzi no Mille credit Mille credit L'Allianz dai va bene Penultimo pacchetto da 7.500 Eden Hazard Lo troveremo un giocatore forte Me lo sento questa volta Me lo sento Questa volta me lo sento Eccolo qui V Polanski Bella Bello bello Proprio bello Ultimo pacchetto Alaba Alaba facci sognare Alaba Alaba facci sognare Ultimo pacchetto Vogliamo un benzema nero Vogliamo un benzema nero Io me lo sento Eccolo qui E' lui Arribas Arriba Un calcio in culo Tarribas Ma non ci credo Rega Ma non ci credo Oh Questa volta mi piace Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Spero che i pacchetto Vi piacciono Se è così Scrivete nei commenti Qualcosa di cososo E scrivete che FIFA è fifoso Quindi da maggio è tutto Bella Ciao 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 Ciao